Siamo per iniziare, però partiamo dalla scena 3. Allora Mauro, vuoi le schede? Grazie. Puoi? Sì. Diventa più tenero, cioè da padre a figlio, e poi alla fine quando tu dici, sì ma questo nome, è verità, non è vissuta niente, perché io ho pochettino. Pedro Fabrizio. E chi ti fa? Mi mambo. Mi mambo. Mi mambo. Me la so perso. Il gruppo tecnico è andato in fumo. L'acqua è proprio backstage puro, eh. Sì. Quindi è 3, 1, 1. Guardi, basta? Sì, basta. Facciamo già il dettaglio. Facciamo il dettaglio. Allora, mi devi chiamare su WhatsApp perché a metto il telefono... A fine che è importante. Sì. Mamma mia. Ma... Qui si fa lunga. Poi... Intanto parto, sto sul checker adesso, non me lo puoi mettere vicino alla faccia delle massi, di lì. Ok. Vai con il certo, vai con il certo. È fatto, ho partito io. Sì. Diamo un motore. Motore, camera, partita. No, l'ho partito. Ok, la ballata del Trasimeno, 3, 1 prima. Silenzio, per favore. Vai, motore. Avete partito? Avete partito. Camera, partita. La ballata del Trasimeno, 3, 2 prima. Aspetta, poi cosa deve fare praticamente? Quello. Ah, ok. Quando vuoi. Grazie. La ballata del Trasimeno, 4, 2 seconda. La ballata del Trasimeno, 4, 2 seconda. Grazie. 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 In azione. Buongiorno, signore. Grazie, un caffè, un cappuccino? Professore, grazie. Qualcosa da mangiare? Grazie. 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 Grazie, grazie. Grazie. Oh, prego, non è mia, grazie, eh sì, certo, grazie, grazie, ok, ci sta la grande, però Che dici? Ma guarda, carina, eh, guarda, carina, bici, arrivo, eh, aspetta copia il cucine, Meno nove, due, prima, attenzione, prego, 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 Ok, ok, stop Motore, partito, la bella, ti do io la battuta, eh, la ballata del Trasimeno, nove, cinque, prima, vabbè, azione, vabbè, vabbè, anche più avanti, anche più avanti, anche più Un passo in più, loro non vedono, forza Che attore professionista Ehi, meh, bella, bella, verificio, sì Arbuncissima No, l'ho trovata per caso Pensavo che fossi anche tu, marinaio, fratello, a bordo del poderoso galeone di Trasimeno Blu Voi infatti commentate, voi potete anche commentare Non pensavo che fossi anche giallo Giallo Allora, motore Partito Partito, partito Partito, partito Vai Partito 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 pensavo che fossi anche tu un marinaio a bordo del poderoso vascello di Trasimeno Blu e che concerto Trasimeno Blu calma calma riprendi da lì azione e che concerto Trasimeno Blu artisti da tutta Italia e dal mondo fanno spettacolo e che spettacolo fa vedere e fa basso Trasimeno Blu Trasimeno Blu uno seconda azione ti vedo ti vedo aspetta 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 ritorno indietro ti vedo il gatto morto ti so colpio dei capelli ecco così bravo bravo così 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 vai azione azione è ehi ma ecco l'on'altra famiglia Cazzo, azione, bracone Così intanto potete prendere di vestichezza con le note, va bene? Se qualcuno ha delle domande, fatemene fuori, tanto qua questa la ripeto, si arrivano anche più Ma la mia moglie si è vero, va bene? Se non lo so, non lo so, non lo so Un'altra volta è un'altra volta Sì, bisogna essere un attimo attenti perché la luce sta per, bisogna stare con le tempiste e siccome non si parla ancora una volta, ma si dirà anche una volta, bisogna essere tutti fortemente concentrati quando ritmo io, azione, incontro e quando non si parla, continuate la scena e ora, faremo questa prima prova, lo finiremo, una luce buona è buona. Onalo, baby! Onalo, Onalo, Onalo! Onalone, yep! Siamo pronti 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 Massimo Siamo pronti Siamo pronti Insieme Siamo pronti 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 Alla Siamo pronti Pronti Siamo pronti Siamo pronti Siamo pronti Siamo pronti Siamo 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 pronti 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 Grazie a tutti. Grazie, ragazzi, con le scene finali di Carlo Aldrone abbiamo finito la ballata del Trasimeno. All right, ora proverò stile, stile blogger, sarei ripetendo il cielo, ma cos'è il cielo? Vai, grazie. Incredibile, grazie Massimo, ora sarai una persona migliore sicuramente. Abbiamo rovinato una carriera. Esatto, abbiamo rovinato una carriera così. Adesso vado dal drone a farmi capire. Incredibile, incredibile. La nostra gioia è incredibile. Lei cosa ha da dire? Incredibile, ho preso 4 kg. Sono solo io l'unico che non è contento, che non può più volare. All right, ciao ragazzi. Vorrei ringraziare però la produzione, perché onestamente chiamo l'applauso, abbiamo mangiato sempre benissimo. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Da-da-dee-dee-dee-da-da-dum Hey, hey Your daddy longs over you Hey, hey Your daddy longs over you Hey, what all hell are you Hey, hey No, 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 no No, 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 no